È costata 640.000 euro a carico della provincia la rotatoria tra la strada provinciale 27 Giarabassa e la 94 Contarina nel comune di Gran Torto con l'obiettivo di migliorare la circolazione sulle strade dell'Alta Padovana. I lavori sono a buon punto e il termine previsto per la conclusione è gennaio 2023, un'opera attesa fin dal 2018. Le due provinciali, ha osservato il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, sono attraversate in entrambi i sensi da molto traffico, anche pesante, diretto fuori Gran Torto. La rotonda ha un diametro di 40 metri, un anello carrabile di 7 e la banchina è transitabile.